Ci sono malumori fra i cittadini di Agropoli e i venditori del mercatino della frutta per lo stato in cui riversa la zona. Infatti sono diverse le segnalazioni sui social riguardo una generale non curanza dell'area che si presenta in condizioni di poca pulizia, in particolare nel collegamento fra il parcheggio Landolfi e dove si posizionano i venditori di frutta e verdura. Erba alta è una disinfezione del tratto che manca da troppo tempo. Sono varie le lamentele degli agropolesi e anche da parte di chi espone i propri prodotti, che al momento non ha a disposizione nemmeno i sanitari. Di certo servirebbe più attenzione, soprattutto in questi tempi, da parte dell'amministrazione comunale agropolese, ad un'area molto frequentata nel punto nevralgico della città e che rappresenta anche fonte di guadagno e di sostentamento dell'economia locale per molti.